Ciao a tutti, come voi già sapete il pianello è famoso per la sua tifoseria, sabato 21 ci sarà la finale suddentro della direzione del 34, niente, volevo dirvi che ci aspetteranno e dobbiamo fargli vedere agli avversari quanto sarà rumoroso questo balanzetto, quindi cerchiamo di essere numerosi. Ciao a tutti.